L'asilo Nidolo Scarabocchio si trova in via Gaspari 3 in un'area residenziale al confine tra Casalecchio di Reno e Bologna. Inaugurato nel 2013 accoglie un gruppo di 15 bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni in un'unica sezione eterogenea. Siamo una piccola comunità e si respira proprio un clima familiare. Gli spazi interni del nido sono curati in modo accogliente e funzionale perché possano offrire ai bambini la possibilità di esprimersi in piena autonomia favorendo la socializzazione e le relazioni coi coetanei. Il personale del nido è formato da educatrici qualificate che programmano, sperimentano e documentano insieme alla coordinatrice pedagogica percorsi educativi che si realizzano con proposte esperienziali, relazionali e ludiche. Nella nostra struttura mettiamo particolare cura ed impegno nell'igiene e nella sanificazione degli ambienti e dei materiali utilizzati. Gli ambienti sono organizzati con materiali certificati. all'interno del nido si favoriscono esperienze grafico-pittoriche, sensoriali, logiche, manipolative e motorie. Al nido vengono serviti pasti controllati e personalizzati in base all'età. Lo scarabocchio dispone di un piccolo giardino ad uso esclusivo con giochi e tavolini per svolgere attività all'aria aperta ed è utilizzato in tutte le stagioni dell'anno. Per tutte le informazioni contattateci al 388 25 47 477. Lo scarabocchio sarà felice di accogliervi.